Vado sempre avanti. Non mi giro mai, non guardo mai indietro da tutta la vita. Io le venderò la Francia di domani. Ah, bene, è quella la Francia di domani. No, la Francia di domani sono io. T-A-P-I-E. Bernarda P. Bernarda P, signor Ministro. Signor Presidente. Ricordatevelo perché ci sarà un prima e un dopo. Voglio avviare una nuova attività. Verrebbe a lavorare con me? A 49 anni è diventato un simbolo, quello dell'uomo di successo. Gli piacciono soprattutto la fama e la gloria. Alla fine della canzone esplode tutto con dieci fuochi d'artificio o dieci bengala. Applausi, 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 applausi. Non rovinerai tutto ad avere gli occhi più grandi della pancia. Nel mio mestiere devi avere gli occhi più grandi della pancia. Questo livello di debito è una bomba nucleare a orologeria e... Imbarchiamo acqua da tutte le parti. C'è una forte possibilità che questo si ritorca contro di lei. Hai dimenticato un dettaglio. Io sono indistruttibile. Vi racconto una storia molto divertente. La storia di un ragazzino di periferia che si credeva un grande rivoluzionario e che in realtà era solo un Don Giovanni da quattro soldi. È bello, ma preferisco essere presidente della Repubblica. È diventato il re di Marsiglia. Ma un re senza potere in fondo che cos'è? Se vuoi vincere, segui le regole e usi dei piccoli trucchi. Le persone vere non vanno in tv. Per lei la politica è uno spettacolo. Io sarò un clown, ma questo fa sognare la gente. E tu chi fai sognare? Almeno io so chi sono. È il popolo contro l'illipa regina. Ma qual è il tuo obiettivo? Perdere questa famiglia e quello che abbiamo costruito? Ho molto da offrire a questo paese di merda. Se vincerò alla finale, mi leccheranno i piedi! Sappia che se un giorno dovesse finire in prigione, non sarebbe lei, personalmente, ad essere l'inchiuso, ma tapì. Il mito. Love me, please love me.